Tutti contro di noi, ma oggi noi ci riuniamo e siamo tantissimi da una dimostrazione. Migliaia di persone sono scese in piazza San Giovanni a Roma ieri per chiedere con cartelli, slogani, testimonianze la libertà di scelta e lo stop al certificato verde. L'attenzione di alcuni media però non è ricaduta sul messaggio lanciato dai manifestanti, bensì su un gruppo di giovani che al termine dell'evento hanno lanciato oggetti contro la polizia e sul vicequestore Nunzia Schiliro che fuori servizio è salita sul palco definendo il Green Pass illegittimo. Nei suoi confronti il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato un'azione disciplinare, ma nel frattempo è passata in secondo piano la protesta pacifica di chi a gran voce ha detto no alla dittatura sanitaria. Tanti marchigiani che hanno preso parte all'iniziativa, tra loro anche Barbara Giorgini, una docente di scuola secondaria superiore a tempo indeterminato, insegna lingua, letteratura italiana e storia. Ha quattro figli, tre nipoti e viva Monte Felcino. Lo scorso maggio aveva chiesto l'aspettativa per motivi personali e dunque a settembre non ha fatto il suo rientro in classe. C'erano diverse persone anche dalla nostra provincia, quella di Pesero Urbino. Lei Barbara, perché ha deciso di partecipare? Allora, intanto c'erano diverse persone molto limitante, perché c'erano veramente tante persone che sono partite anche dalla provincia, ma che sono partite da Fano, Fossombroni, Urbino, eravamo veramente in tanti. Io ho deciso di partecipare perché voglio dare il mio contributo, per questo che penso sia un momento molto importante proprio per la vita civile del nostro paese. Ho voluto dare la mia presenza, come adesso voglio dare la mia voce e mettermi in gioco anche con il mio viso in questa intervista, perché ritengo che ognuno di noi, nel piccolo, nel grande che può fare, deve metterci il proprio impegno. Che cosa ne pensa di chi definisce egoisti ed irresponsabili coloro che non si vaccinano? Intanto io rivolgerei a chi mi fa questa domanda la stessa domanda. Come mai consideri irresponsabile una persona che sceglie di non vaccinarsi? Dove è visto l'egoismo? Anche perché per quanto riguarda i vaccini e le cure nei confronti di questa malattia ci sono tanti pareri discordi. Però credo che ormai una verità scientifica sia quella accettata unanimamente che definisce vaccinati e non vaccinati comunque portatori di contagio, anche magari in percentuali diverse, ma comunque non significative. Quindi non capisco perché io che ho scelto di non vaccinarmi e ho scelto di non farlo in questo momento per motivi miei, debba essere tacciata di egoismo quando in realtà posso contaminare gli altri come i vaccinati. Quindi sono costretta a fare un tampone per svolgere la mia vita quotidianamente, quindi per andare a lavorare, per andare a scuola se fossi uno studente universitario, per andare al ristorante, per partecipare quindi alla vita sociale, quando metto a rischio, tra virgolette, la salute degli altri così come fanno i vaccinati. Perché non si fida della scienza? Io mi fido della scienza, da dove ci sono dei dati certi e incontrovertibili, ma mi sembra che in questo momento nessuno possa dire che questi vaccini, nel breve, medio e lungo termine, non diano delle complicanze anche molto gravi. Quindi mi chiedo perché una persona in salute, che conduce una vita sana, dovrebbe mettere a rischio a repentaglio questa propria situazione, quindi la propria integrità fisica, per farsi inoculare un siero, il cosiddetto vaccino, che queste certezze non ce le dà. Quindi io ho profonda fiducia nella scienza, da dove però la scienza è anche aperta al confronto e mi sembra che in questo momento il confronto invece sia evitato su più piani e invece solo alcune voci possano essere ascoltate, solo ad alcune voci possa essere dato risalto, mentre tutte le altre vengono messe a tacere oppure vengono ridicolizzate. Ecco, per esempio si dice che il vaccino possa portare a diversi rischi, uno di questi potrebbe essere il rischio al cancro, io non lo so. La prima cosa che dico quando mi chiedono perché sei così contro il vaccino, io intanto dico non sono contro il vaccino, ma ho dei dubbi e quindi prima di avvicinarmi a un'esperienza di questo tipo vorrei avere delle certezze. Credo che la verità al 100% non ce la possa dare nessuno, però almeno avere una percentuale più alta di sicurezza nei confronti di questo siero la pretendo per me e per i miei figli. Lei ha inviato un videomessaggio ai suoi alunni, che cosa gli ha detto? Per questo anno scolastico ho chiesto l'aspettativa per motivi personali, ma anche dietro alla spinta di questo obbligo di vaccinazione esteso ai docenti che ad aprile, momento in cui ho presentato la domanda, potevo solo prevedere, purtroppo con nessun margine di errore col seno di poi. Non potendo entrare in classe il 15 settembre ad augurare un buon inizio allo scolastico ai miei ragazzi e alle mie ragazze, ho inviato loro un videomessaggio in cui facevo proprio riferimento all'importanza dell'esercizio dello spirito critico e di sostenere sempre il diritto di libertà, di pensiero, di parola, di scelta di tutti, anche di chi la pensa diversamente da noi e di farlo in modo attivo, non soltanto a parole. Che cosa direbbe oggi ai suoi studenti? Allora, quello che dico sempre da quando insegno, dico che la scuola e lo studio non serve per immagazzinare delle nozioni o dei concetti, ma che è una palestra per esercitare lo spirito critico e ritengo che in questo momento attuale sia una palestra formidabile perché sia necessario informarsi su più canali, su più fronti ed essere aperti al confronto. Quello che trovo invece è che ci sia una grande chiusura da parte di alcune persone che credono di avere in mano la verità. Quindi il vaccino viene considerato come l'unico modo per debellare questa malattia. Io non ho neanche la verità, al contrario, cioè io non sono quella che dice che il vaccino fa male, non deve essere inoculato, ma credo che bisogna andarci veramente con le dovute cautele. Quindi ai miei ragazzi direi di continuare a fare quello che hanno imparato da me o dalla scuola in generale, quindi avere aperti gli occhi e esercitare il proprio spirito critico per sfuggire dalle manipolazioni. Come mai secondo lei la notizia non è stata presa in considerazione da alcuni giornali mentre altri ne hanno dato poco risalto? Allora, la notizia della manifestazione delle migliaia di persone che erano in piazza è stata sottaciuta oppure è stata relegata ad alcuni trafiletti. Questo però non mi stupisce, devo dire, perché ormai da diverso tempo sto vedendo che le informazioni non vengono date in maniera corretta. Ecco, per esempio, Fano TV è una di quelle TV di quegli organismi di stampa che mi sembra siano molto aperti al confronto, quindi diano un'informazione e anche un'altra, lasciando poi la possibilità alle persone di farsi un'idea. Per ritornare alla mia esperienza scolastica, quando eravamo a maggio, giugno, facevo questa domanda ai ragazzi e chiedevo loro, guardate, se confrontassimo i giornali dell'anno precedente, dell'anno scorso, di questo periodo, noi avremmo letto, come abbiamo letto perché eravamo insieme, che i contagi stavano calando perché si arrivava alla bella stagione. L'anno scorso non c'erano i vaccini. Quest'anno, lo stesso periodo, i dati sono presto che identici, ma i giornali riportano questa notizia. I contagi stanno calando e questo è grazie al vaccino. Questo chiedendo ai ragazzi quale poteva essere una lettura, quindi per ritornare allo spirito critico. Credo che ci sia un grande discredito nei confronti di quelle persone che cercano di elevare una voce diversa dal coro. Tra l'altro, l'etichetta, io non mi riconosco nessuna etichetta, tantomeno nell'etichetta di Novax o di No Green Pass. Io sono pro libertà e vorrei che così come sono state libere le persone che hanno scelto di vaccinarsi, possiamo continuare ad essere liberi noi che abbiamo qualche dubbio e magari rimanderemo il vaccino a un momento successivo. C'è un messaggio che vuole lanciare o qualcos'altro da aggiungere? Sì, vorrei lanciare questo messaggio con le parole non mie ma con le parole di un teologo e di un pastore protestante tedesco in opposizione al regime nazista. Io mi scusi in anticipo se le parole non saranno proprio quelle ma il messaggio credo che passerà comunque immodificato. Questo è l'inizio di un sermone che inizia in questo modo appunto. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi erano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e ne fui contento perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, non dissi niente, non ero comunista. Poi vennero a prendere me e non c'era rimasto più nessuno a protestare.